Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi siamo qua con una sfida particolare Insomma particolare comunque non è niente di che Però comunque è una sfida che appunto voglio portare sul canale Una sfida che potrebbe avviare anche una nuova serie Ovvero sniper qualcosa, una cosa del genere Boh adesso vedo Comunque in cosa consiste questa sfida appunto consiste nel fare kill con il cecchino praticamente E ogni kill con il cecchino mangiare un pavesino e ho fatto anche la rima E comunque consideriamo il fatto che qual è la vera sfida Allora in parte il fatto che faccio schifo con il cecchino Quindi già su Black Ops 2 E poi perché ho un cecchino di merda Infatti questo è a raffica però anche quell'altro non mi ricordo il nome Non è il ballista comunque che è il mio preferito Eccolo prima il DSR mi sembra che si chiama Perché appunto ho prestigiato e muori Ok prima kill fatta E adesso mangio il pavesino un attimo che vi spiego Perché appunto mentre uno mangia e più gioca Praticamente ecco questo qui ragazzi è il DSR Uno se mangia mentre gioca in teoria è meno concentrato E io già che faccio schifo da per me no Se mangio e mi sconcentro pure Eh qui non va bene Comunque due kill fatte quindi dobbiamo prendere due Allora uno Ok Ah due kill Intanto io non trovo nemici Anche se li vedo sulla minimap Eccolo E non muore Non muore Vabbè Adesso prendiamo il DSR che è anche più difficile Comunque questo è il pavesino di prima Io intanto sto uscendo dall'inquadratura Ah che poi Avendo messo il silenziatore In teoria dovrebbe ridurre il danno Dai esci fuori Non esce Comunque devo prenderci un po' tanto la mano su Black Ops Due eh con il cecchino eccolo Due due Quale prendo? Questo Preso Vai vai preso Pavisino Pavisino Due Due kill Ah mamma mia Oh c'è uno qua Vabbè Comunque quattro Pille in tutto Qui finiscono i pavesini Occhio dietro Connessione interrotta Guarda se muoio Preso E andiamo Connessione interrotta Intanto che Si sistema Io non approfitto per mangiare un pavesino Ce n'è uno qua Connessione interrotta Pezzo di merda Vabbè comunque Usciamo va perché siamo sempre qui Ha laggato Ha laggato Vabbè Comunque non sto usando le Cuffie quelle che uso sempre C'è un altro con il cecchino Chi la vincerà? Ovviamente questo qua Con la mitraglietta Pezzo di merda E se ti levi magari Mamma mia come lag Come lag Già che la mappa Non è un gran che è Col cecchino Ma Ma via di mezzo Però Ci sono mappe migliori Tipo Nuketown Che Nuketown ragazzi Col cecchino Si fa casino Ma guarda questo che Se è girato E non muori però E non muori Ho fatto hit marker Vabbè Comunque Forse parlo un po' troppo piano Quindi dovrei Urlare come una ragazza In modo che Si sente meglio No Eh però non muori Cioè io ti ho sparato Ma tu non muori Comunque Mi avete detto che È una bella serie Quindi appunto Continuo a portarvela E Niente Spero che continui a piacervi Ovviamente se volete Black Ops 3 Ditemelo che Non mi costa niente portarlo Visto che comunque È il gioco Del momento È il cod Che appunto ci sta Quindi Non vedo perché non portarlo Infatti ve lo porto Connessione interrotta Strano C'è sta uno qua No è morto Eh Ovviamente Connessione interrotta Vabbè 5.8 Eh Abbiamo vinto Bene Abbiamo vinto ragazzi Bravissimi Complimenti Comunque 5.8 E Abbiamo mangiato 5 pavesini Ovviamente 5.8 Quindi 5 pavesini Comunque ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Non è Un granché Comunque come sfida Perché appunto Mangiare un pavesino Non è tutta questa grande Sfida Ma la vera sfida ragazzi Era appunto Rimanere concentrati E soprattutto Fare un decente Erato Cosa che io non ho fatto Però comunque Non importa Perché tanto so che Faccio schifo col cecchino Quindi Appunto Non cambia niente Niente La vita è questa Vi invito a lasciare un bel like Commentini Iscrivetevi E noi ragazzi Ci vediamo prossimamente Con un nuovo video Bella Ciao